Il piano degli interventi della città di Feltre è realtà. A 14 anni dall'approvazione del PAT e a 44 da quella del piano regolatore, ha preso vita lo strumento urbanistico che si occuperà di riqualificare il centro e le aree periferiche. La carne al fuoco è tanta, il piano punta a migliorare la vivibilità delle aree urbanistiche feltrine in un'ottica sostenibile e con l'obiettivo di avvicinare i cittadini ai servizi. È un piano di principi saldi che sono la resilienza, cioè come la città, abbiamo visto i cambiamenti climatici e quello che è successo con Vaia, come la città deve rispondere qualora accadessero delle cose che speriamo non accadano più. È un piano che ha subito e che ha letto in maniera intelligente, a mio avviso, i cambiamenti del Covid, quindi le questioni della prossimità, l'importanza dei negozi di vicinato. È un piano che dice stop al consumo di suolo, certo non è un consumo zero ancora, però sicuramente ci stiamo andando vicini. C'è anche la questione che quando si va a recuperare ad esempio un edificio, un'area, bisogna anche pensare alla permeabilità dei suoli. E c'è una rete ecologica che è fatta dai filari degli alberi, dai parchi e dall'ambito agricolo che gli sta intorno. Sotto osservazione alcune zone chiave della città di Feltre. Come le caserme Zanetelli, come l'area Marangoni, ex Marangoni, come Stella Maris, che sapete è un grandissimo edificio che è andato più volte all'asta e c'è un scamotage di riqualificazione che speriamo aiuti a qualche investitore a dire che vale la pena investire in un ambito bellissimo peraltro. ci sono spazi di riqualificazione di nuove centralità come il Bosca Rizzi, Borgo Ruga e poi c'è la riqualificazione del centro storico intesa come da un lato tutela ma anche degli ambiti di semplificazione.